questo è il secondo video di presentazione del fan controller fobia tpc 4x fan or pump controller 30 watt ed è il test di carico a 30 watt appunto ovvero il massimo abbiamo tre ventole shite ultra case da 3000 rpm ed una ventola tb vegas trio enermax ed in totale consumano 30 watt vediamo che succede e piccolo particolare ventole al minimo 12 volt che sarebbero start up voltage ventole che si spengono adesso vediamo se il fan controller reagisce in modo opportuno 30 watt 2640 2610 2640 la velocità nominale di 3000 rpm non sembra essere rispettata il che significa che potrebbe darsi che ci sia un leggero calo di voltaggio purtroppo non viene non viene espresso sull'lcd a differenza dell'fc5.3 sarebbe necessario appunto misurarlo direttamente comunque sia in linea teorica vengono certificati 30 watt all'atto pratico la situazione è possibile che non sia tale comunque sia comunque sia sembra sembra alimentare una configurazione di ventole decisamente potente non tali fino a 30 watt sicuramente 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 grazie 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 grazie